Siamo, stiamo chiudendo i titoli e tra poco saremo in onda con il telegiornale. Di fatto per raccontarvi di una settimana cruciale che si apre domani sotto molti punti di vista. Il più importante è quello che riguarda la manovra correttiva perché domani è lunedì e quindi domani riaprono i mercati e questa manovra approvata in tempi record in 48 ore di fatto sarà sotto gli occhi appunto dei mercati internazionali e delle borse. Quindi vedremo come reagiranno e se sarà stata agli occhi degli osservatori sufficientemente valida in questa sua prima fase. Tra l'altro Berlusconi domani in tarda mattinata si recherà proprio da Napolitano per parlare di questo evidentemente della situazione economica a mercati riaperti. Ma vi dicevo una settimana importante sicuramente dal punto di vista economico anche perché questa manovra si porta dietro oltre agli aumenti come per esempio i ticket sanitari e anche alcune problematiche come le regioni che non vogliono attuare questi aumenti che riguardano il mondo della sanità. Ma ve ne parleremo. Dicevo però non c'è solamente la manovra c'è anche una settimana difficile, complicata per la maggioranza. Allora Berlusconi avrà diversi impegni, intanto mercoledì l'aula di Montecitorio si troverà a discutere del caso del deputato del PDL Alfonso Papa coinvolto nell'inchiesta della P4. Vedremo di fatto come andrà. La giunta per le autorizzazioni ha dato parere favorevole. Poi c'è stata la posizione della Lega, un Bossi che prima aveva dichiarato deve andare in galera. Poi però ieri sera è stato più garantista, ha detto no, prima i processi e poi si decide. Insomma c'è la Lega ancora una volta a tenere con il fiato sospeso la maggioranza. Che cosa farà la Lega in aula quando, come si dice a voto segreto, si dovrà esprimere? Tra l'altro domani Berlusconi dopo aver incontrato il capo dello Stato, in serata dovrebbe vedere anche il leader del Carroccio. E quindi c'è questo fronte, come c'è un fronte che riguarda sempre la maggioranza, perché ci sono alcuni posti ancora scoperti nel governo, a cominciare da quello di Alfano, Ministro della Giustizia, che ha lasciato il suo incarico perché ora, sapete, fa il segretario del PDL, però appunto anche quello è un posto molto importante e che va ricoperto. Insomma, fibrillazioni ancora per la maggioranza, ci sono anche altri temi. Uno è strettamente legato alla manovra economica e quello che riguarda i costi della politica. Sì, abbiamo tagliato, hanno tagliato, dicono, un po' dappertutto, una manovra che incide sulle famiglie, ma i costi della politica non si toccano mai, o almeno non si toccano per il momento. E c'è una vera e propria sollevazione su questo fronte. Ci sono alcuni esponenti politici che chiamano alla mobilitazione, ma ci sono anche le rivelazioni di un ex precario che ha lavorato a Montecitorio che stanno tenendo con il fiato sospeso molti deputati. E vi racconteremo naturalmente di che cosa si tratta. Poi c'è anche lo scandalo Marduk, che oggi prosegue con nuovi colpi di scena. Iniziamo a vedere però i titoli. I tagli entrano in vigore e subito scatta all'opposizione delle regioni. Dopo Emilia e Toscana, anche Umbria, Veneto, Trentino, Val d'Aosta e Sardegna per ora congelano i ticket sanitari. Studiamo norme meno dure per i cittadini, dicono. Napolitano sollecita il confronto per uscire dalla crisi e domani incontra Berlusconi per discutere della manovra. E fuori dai palazzi cresce la protesta tra i militanti di ogni partito per i mancati tagli ai costi della politica. Sul web, in poche ore, più di 100.000 adesioni al sito di un ex precario che denuncia gli sprechi dei parlamentari. In una lettera al fatto, Fini annuncia tagliamo i nostri privilegi e di Pietro subito trasparenza nei costi. Settimana decisiva per la maggioranza. A mercoledì si vota sull'arresto dell'onorevole Papa. Bossi fa retromarcia e dice no alla galera. Ma ci sono malumori nel carroccio. La maggioranza cerca la quadra. Poi c'è il rimpasto per sostituire Alfano, neosegretario del PDL. E dall'opposizione continuano gli appelli al superamento dell'attuale governo. Veltroni, in un'intervista al Corsera, decreta oggi Berlusconi ha il problema e bisogna cambiare. Poi lancia un appello. Il PDL accetti il governo istituzionale. Bersani invece pensa a costruire l'unità tra centrosinistra e Udc. In Gran Bretagna, scandalo, intercettazioni senza fine. Arrestata Rebecca Brooks, del gruppo Marduk, sempre più nella bufera. L'ex direttore ed ex amministratore delegato è accusata di corruzione. Indagato anche James, il figlio del magnate dell'editoria, ha sospetti sul capo di Scotland Yard e su un altro funzionario presunto corrotto dal gruppo. Spiati illegalmente anche Beckham e Paul McCartney. Stavolta la pulce non ha fatto la differenza in campo. Messi, tre volte pallone d'oro decisivo nel Barcellona delle Stelle, non brilla con la sua Argentina in Coppa America. Persi ai rigori quarti di finale con l'Uruguay. Il numero dieci più forte del mondo esce a testa bassa dal torneo. Buonasera, benvenuti alla telegiornale della Sette. Allora, andiamo con ordine in quella che vi dicevo, nella nostra anteprima sarà una settimana molto molto importante da più punti di vista. Ma sicuramente c'è il fronte economico che preoccupa più di tutti, c'è quella manovra correttiva che è stata approvata in Tempi Record in 48 ore e domani sarà il primo giorno appunto che quella manovra sarà anche sotto gli occhi dei mercati internazionali. Ma ci sono dei provvedimenti che scattano da subito, ve lo abbiamo già detto, a cominciare quelli che vedono i tagli, i ticket sulla sanità e ci sono molte regioni che sono contrarie. La prima stangata cade, manco a dirlo, sulle fasce più deboli e riguarda la salute di almeno 15 milioni di italiani senza esenzioni varie. Da oggi, con l'entrata in vigore della manovra finanziaria, approvata a tempo di record, torna il ticket sanitario, 10 euro in più sulle prestazioni specialistiche e 25 per i cosiddetti codici bianchi, richieste di pronto soccorso di non grave entità. Ma la faccenda è più complicata di quanto sembri, perché questa nuova tassa ha creato un movimento a macchia di leopardo tra le 20 regioni italiane titolari della gestione sanitaria. Tra sì, no e temporeggiamenti, gli uffici delle giunte sono al lavoro per cercare soluzioni che non gravino troppo sulle tasche dei cittadini. Per i tecnici della regione Liguria, ad esempio, il ticket è obbligatorio e quindi i suoi abitanti da oggi dovranno sborsare l'aumento previsto dalla legge di bilancio. Non sono gli unici. Stessa cosa capiterà a Lombardia, che, come ha detto Formigoni, non eliminerà il ticket da 10 euro, ma cercherà perlomeno di abbassarlo. Sì, anche di Basilicata, Sicilia e Calabria. C'è poi un vasto e agguerrito fronte anti-ticket. Sette governatori hanno detto un no secco, manifestando una vera e propria rivolta contro quella che Catiuscia Marini, governatrice dell'Umbria, definisce una tassa ingiusta e iniqua. Dopo Toscana ed Emilia-Romagna, le prime a schierarsi sulla trincea del no, ecco dunque l'Umbria e anche il Veneto. Questa mattina il governatore leghista Luca Zaia ha annunciato che la sua regione per ora non applicherà il ticket, garantendo ai cittadini gli alti standard delle cure mediche, come sempre. Del fronte del no fanno parte anche Sardegna, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Piemonte, Marche, Campania e Friuli stanno studiando se e come evitarne l'introduzione, mentre il Lazio, nonostante il disappunto del presidente Renata Polverini, non può evitare di chiedere questo sacrificio ai suoi cittadini, vista la condizione di regione sottoposta a piano di rientro. Tutto questo non vuol dire che il super ticket non sarà pagato, ma solo che in questa fase le regioni si faranno direttamente carico dell'aggravio chiesto dallo Stato usando fondi propri. Chaos ticket a parte, il dopo manovra domani sarà oggetto di discussione tra il premier Berlusconi e il capo dello Stato, che proprio oggi, con una lettera sulle pagine del Sole 24 Ore, ha lanciato un nuovo appello alle forze politiche e sociali, invitandole a confrontarsi nel merito delle proposte, tanto da far emergere ogni possibile condivisione. E dalla manovra però sparisce la voce Costi della politica, dunque almeno per il momento questi tagli sono stati rimandati, perché se ne è parlato molto prima di metterla a punto questa manovra, però poi non se ne è fatto nulla. E cresce la protesta, che è una protesta dell'opinione pubblica, ma anche di alcune parti politiche. Lacrime e sangue quando tocca al palazzo, sale la protesta dell'opinione pubblica contro i privilegi dei politici, basta fare un giro sui siti internet dei partiti. La manovra non taglia nessuno degli sprechi, scrive Mario sul blog della Lega, ma lumori anche su Spazio Azzurro, la bacheca del PDL, perché si fanno i tagli sulle persone normali e si rinviano quelli della casta, firmato il moderato. Ai militanti PD non è ancora passata l'arrabbiatura per l'astensione sull'abolizione delle province. Sono molti a chiedere che il partito si mobiliti con atti concreti, accusando i democratici di ambiguità. Ancora una volta la casta, voi compresi, vi siete salvati, sintetizza Francesco. In rete poi si scatena la rabbia contro Roberto Formigoni, il presidente della Lombardia, in collegamento con il Tg3, parla dei tagli e dei sacrifici della manovra con lo sfondo degli yacht di Porto Cervo. I politici iniziano però a capire che avanti così non si può andare, che gli indignati cominciano ad averne le tasche piene di loro. Di Pietro lanciano a mobilitazioni di piazza per fine settembre. È vero che servono 30 miliardi, ma si potevano e si possono prendere da altri capitoli e non dalle tasche degli italiani più poveri. Per questo eliminiamo le province, eliminiamo le comunità montane, eliminiamo i consigli di amministrazione, eliminiamo tutti quegli sprechi a cominciare dai rimborsi elettorali che la classe politica continua a fare alle spalle degli italiani. È questo l'impegno dell'Italia Valori con una grappola di legge e di iniziativa popolare, perché quel che abbiamo depositato in Parlamento, come avete visto, anche in questa manovra, la classe politica fa finta di non ascoltare, bocciandoci la nostra proposta di eliminazione delle province. Il presidente della Camera Fini risponde all'appello del Fatto Quotidiano perché il Parlamento convinca gli italiani che le Camere non sono un luogo dove una casta privilegiata si chiude a difesa dei suoi interessi. C'è spazio per tagli significativi, afferma Gianfranco Fini, che promette entro luglio un voto a Montecitorio sulla riduzione dei costi. Va verificato se c'è la volontà di farlo, mette però in guardia, per una volta possiamo sperare che i capponi anticipino il Natale? E allora, in attesa della mobilitazione del mondo politico, c'è chi non ha perso tempo. Si chiama Spider Truman, nome di battaglia, e dietro a questo nome si nasconderebbe un ex precario che ha lavorato a Montecitorio e che promette di svelare giorno dopo giorno tutti i privilegi dei parlamentari. Parte da Facebook la nuova protesta del popolo degli indignati contro la casta. è un popolo sempre più arrabbiato che cresce intorno a Spider Truman, il precario di Montecitorio, che si presenta così. Licenziato dopo 15 anni, ho deciso di svelare tutti i segreti della cassa dei politici. Spider Truman ha sloccio le privilegi di cui godono gli inquilini di Montecitorio e Palazzo Madama. Anzi, come le chiama lui, le nefandezze, che sono talmente tante da non sapere dove cominciare. Dai super sconti per acquistare le auto di una nota marca francese, alle scamotage per far viaggiare gratis amici e familiari. C'è poi il capitolo sui misteriosi ladri che si aggirono in transatlantico. Ogni giorno, scrive il misterioso precario, c'è un deputato che denuncia il furto di un costosissimo computer. Come può mai succedere, visti i rigidi controlli fuori e dentro i palazzi del potere? Semplicemente perché lì, scrive l'infiltrato, c'è una polizza assicurativa che copre qualsiasi furto di qualsiasi entità e gli onorevoli sono esclusi dai controlli delle forze dell'ordine. Spider Truman denuncia l'uso delle scorte per portare le mogli dei deputati a fare la spesa e svela come un onorevole riesca ad accaparrarsi la scorta. Basta trovare una persona affidata che si prenda l'impegno, con le dovute precauzioni di intracciabilità, di inviare una lettera anonima di insulti e minacce, meglio verso i familiari, e l'autoblucco scorta è garantita. Insomma, i pessimi esempi non mancano, l'indignazione verso gli odiati privilegiati è al top. Sul sito, fino a qualche minuto fa, avevano cliccato oltre 125.000 persone. E l'ex precario ha aperto un blog e debuttato su Twitter. Tutto vero quello che scrive? Lui presenta in rete i documenti e qualcuno fa notare che per 15 anni non ha svelato nulla. Se è vero che la bufala sul web è sempre dietro l'angolo, è anche vero che la rabbia è così alta. Si fa strada l'idea di organizzare proteste in tutta Italia e sappiamo che quando il popolo del web si muove, qualcosa succede sempre. Lo vedremo. Allora però sarà una settimana impegnativa per la maggioranza sotto diversi punti di vista. Abbiamo già detto della manovra, degli occhi puntati sui mercati sicuramente in riapertura domani mattina, dell'incontro che Berlusconi avrà, sempre domani in tarda mattinata con Napolitano, proprio per osservare il difficile momento per questa crisi economica, ma ci sono anche altri appuntamenti molto importanti nella settimana che comincia domani. Lega e PDL di nuovo a braccetto verso il voto di mercoledì sulla richiesta d'arresto per Alfonso Papa. Nuova pace siglata unilateralmente da Umberto Bossi. Venerdì in polemica con i suoi che si erano astenuti in giunta, aveva invocato la galera per il deputato PDL coinvolto nell'inchiesta sulla P4, ora ha cambiato idea. Niente manette prima del processo, esattamente quello che sostiene il premier Berlusconi. Ma il zigzag potrebbe non essere condiviso da tutti all'interno della Lega. Domani è in programma un vertice con Berlusconi che incontra Bossi e i suoi. L'occasione per un chiarimento. Il PDL potrebbe chiedere il voto segreto a Montecitorio. La scelta semplificherebbe la vita ai leghisti che devono fare i conti con i mal di pancia della base emersi anche al recente voto amministrativo. Berlusconi e Bossi non parleranno solo del caso Papa. In settimana il premier dovrebbe procedere alla sostituzione del ministro Alfano che lascia libera la poltrona della giustizia destinato ad occuparsi solo del partito. Tremonti non si tocca, ha detto Bossi. Dichiarazione che sembra un monito a lasciar fuori il ministro dell'economia da ogni discorso legato al rimpasto. Nel quale invece potrebbe essere coinvolto un fedelissimo del Senatur, il capogruppo alla Camera Reguzzoni che verrebbe sostituito da Stucchi vicino a Maroni. Un giro che spiegherebbe anche il salto mortale di Bossi sul caso Papa. Ma Berlusconi potrebbe procedere alla nomina del nuovo ministro della giustizia senza toccare nient'altro. In questo caso i candidati più accreditati sono i PDL Bruno, Bernini e Nitto Palma. Il premier domani in tarda mattinata sale al Quirinale per parlare con il capo dello Stato del dopo manovra. Possibile che il napolitano chieda aggiornamenti anche su tempi e modi della sostituzione di Alfano. Se la maggioranza cerca la quadra, tanto per usare un termine caro al Carroccio, anche nell'opposizione e soprattutto nel centro-sinistra si cerca di capire quale potrebbe essere la strategia per il dopo Berlusconi. Oggi c'è l'ex segretario del Partito Democratico, Walter Beltroni, che parla di Berlusconi come un tappo per le energie del Paese e suona le sirene per quanti sono scontenti nel PDL. E insomma nella centro-sinistra c'è il dibattito che ritorna sul sogno del governo tecnico. Il PDL dica sì ad un governo istituzionale. L'invito arriva da Walter Beltroni. Dalle colonne del Corriere della Sera l'ex segretario del PD lancia una sfida all'esecutivo in nome della stabilità e della sicurezza del Paese. L'Italia ha bisogno di un altro governo, dice Beltroni, che individua quale ostacolo principale al cambiamento proprio il presidente del Consiglio. Berlusconi oggi è il problema ed è riconosciuto come tale in Italia e all'estero. L'instabilità politica e di governo è legata in particolare a Berlusconi, rilancia Beltroni. La proposta dell'ex segretario del PD è un governo presieduto da una figura affidabile e credibile per l'Italia e per l'Europa, che faccia due cose, la riforma elettorale per rafforzare il sistema bipolare e restituire ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti e che faccia anche scelte dolorose contro l'emergenza economica. Non un ribaltone quindi, ma un esecutivo che per Beltroni troverebbe in Parlamento un consenso larghissimo. Quanto al PD, per Beltroni dovrebbe mettersi alla testa della riforma per il taglio delle province e degli sprechi della casta e di istituzioni pletoriche. Quanto al neosegretario del PDL, Angelino Alfano, per Beltroni può essere l'uomo di una nuova destra, civile e rispettosa delle regole, purché non scelga di fare il secondo Berlusconi. Beltroni cerca di cambiare le carte in tavola. No ai pasticci ognuno, faccia la sua parte, è la secca replica di Fabrizio Cicchitto del PDL, che sottolinea, dopo aver tentato in tutti i modi il ribaltone, dopo che anche qualche giorno fa il governo Berlusconi ha riavuto la fiducia, Beltroni invoca la formazione di un governo istituzionale. Durissimo Gasparri, a che titolo parla Beltroni? Non se ne doveva andare in Africa? Insoddisfatto dell'incuranza nei suoi confronti da parte del PD, ritiene di poter dare lezioni al governo, alle istituzioni, alle forze politiche. Vaneggia un rimescolamento delle carte senza tenere in nessuna considerazione la cosa più importante, la volontà degli elettori. E sempre oggi il segretario del PD, Bersani, propone la sua ricetta. Ricostruiremo noi l'Italia, l'alternativa ora c'è, dice Bersani. Dobbiamo lavorare all'unità dell'opposizione per la prima volta dopo tre anni. PD, Udc e Italia dei Valori hanno presentato emendamenti comuni, dice Bersani. E questa è una novità che non va sottovalutata. Ma c'è un altro fronte caldo che inizia proprio da domani ed è la settimana o comunque i prossimi giorni che riguardano i processi di Berlusconi, Rubigate, Mills e Unipol. Alla fine è saltato tutto. Silvio Berlusconi per l'impegno al Quirinale con Napolitano quasi certamente rinuncerà a tornare in tribunale dopo le uscite della campagna elettorale ma soprattutto dopo la sentenza d'appello sull'Odo Mondadori e all'inizio di una settimana sul fronte giudiziario che il giornale, riportando l'indiscrezione di un ministro, oggi chiama da Elmetto e da Baionetta con le voci di nuovi colpi d'inchiesta sul presidente del Consiglio. Longo e Ghedini ancora ieri avevano confermato il ritorno del presidente. Stasera il cambio di rotta. Il piatto prevede doppia udienza. Prima è Rubigate che domani è particolarmente importante. Il tribunale si pronuncerà sulle eccezioni preliminari avanzate da Ghedini e Longo. In tutto sono 16. Gli avvocati soprattutto hanno contestato la competenza funzionale e territoriale dei magistrati di Milano. Per i legali del Premier, la cui tesi è stata ripresa dalla Camera, il processo è da fare davanti al Tribunale dei Ministri o a Monza. Se l'eccezione fosse accolta, non ci sarebbe bisogno di aspettare la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso proprio della Camera, dichiarato ammissibile dalla consulta. In caso contrario, è probabile che la difesa di Berlusconi chieda la sospensione del processo proprio in attesa della Corte Costituzionale. In aula per la difesa di Rubi tornerà il penultimo avvocato della ragazza marocchina Paola Boccardi. Un rientro dopo lo scontro fra Rubi e l'ultimo legale sulla strategia processuale. Teoricamente domani Rubi potrebbe ancora costituirsi parte civile, una strada che ha deciso di non percorrere anche nell'altro processo contro Mora, Fede e Laminetti. Dopo il Rubigate è in programma il caso Mills. Il Tribunale sentirà alcuni testimoni in videoconferenza dalla Svizzera. Ghedini l'altro giorno ha definito i testi molto importanti per la difesa. Il Premier aveva deciso di schivare il Rubigate e il Dabbo Cassini e presentarsi solo a questa udienza in tarda mattinata, proprio quando invece dovrà trovarsi a Roma da Napolitano. Tecnicamente sarebbe una situazione da legittimo impedimento. Gli avvocati forse ci stanno pensando, anche se è probabile che alla fine decidano di andare avanti con l'udienza, come concordato la scorsa primavera col Presidente del Tribunale. Fate i processi a lunedì, noi non chiederemo il legittimo impedimento. Per Longo e Ghedini sarà l'inizio di un tour de force. Martedì li aspetta l'udienza su Unipol e la storia dell'intercettazione Fassino-Consorte abbiamo una banca. Adesso invece parliamo di una sentenza già emessa, è stata emessa ieri sera, è quella che riguarda la Fiat e il giudice del lavoro di Torino. ha detto no al ricorso della FIOM, ma dalla Fiat dice che c'è stata una condotta antisindacale. Insomma, nella causa che ha visto FIOM contro Fiat per Pomigliano, chi ha vinto? Tutti e due o è un pareggio 50-50? Partiamo dai punti fermi. Primo, il giudice ha riconosciuto legittimo l'accordo di dicembre 2010, col quale Marchione trasferiva tutti i lavoratori di Pomigliano in una nuova società creata per produrre la nuova Panda con un contratto diverso da quello dei metalmeccanici. Cisle, Will, Fismich e UGL avevano firmato la FIOM, no, da qui il ricorso che ha perso. Punto secondo, Fiat è stata condannata per comportamento antisindacale. I meccanismi del nuovo contratto per il giudice escludevano i delegati FIOM dalla fabbrica e qui Maurizio Landini canta vittoria. Punto terzo, l'investimento sulla nuova Panda 700 milioni già partito, resta in piedi. Ma, e qui nascono i dubbi, poiché il contratto di Pomigliano è stato applicato anche a Mirafiori e alle officine Grugliasco, dove gli investimenti invece non sono ancora partiti, cosa accadrà in queste due fabbriche? Mentre i legali della Fiat annunciano di voler impugnare la condanna per comportamento antisindacale, dai vertici dell'ingotto trapela questo concetto. è necessario un accurato esame della sentenza, soprattutto delle motivazioni, per valutare l'impatto sugli investimenti. Un miliardo a Mirafiori per i nuovi fuoristrada, Alfa e Jeep, mezzo miliardo per la nuova Maserati a Grugliasco. Insomma, poiché Fiat ha sempre emesso la governabilità delle fabbriche come requisito per investire in Italia, ora gli uomini di Marchionne dovranno valutare se l'avere dei sindacalisti FIOM in fabbriche, dove la FIOM contesta il contratto che si applica, incide sulla governabilità. Solo in quest'ottica si comprendono le reazioni del mondo sindacale, dal prudente no comment di Susanna Camusso, che Collandini ha avuto più di un diverbio sul caso Fiat, alla soddisfazione di Angelitti e Bonanni, che non perdono l'occasione per rimarcare che la conferma della legittimità di Pomigliano è una sconfitta per la FIOM. Interessante l'opinione dell'ex capo della CGL, oggi eurodeputato PD, Sergio Cofferati va infatti al cuore del problema, il nodo principale restano le intenzioni della Fiat, poiché nessuno sa cosa vuol fare Marchionne, il cui piano industriale, dice Cofferati, è un oggetto sconosciuto. E invece le parole di Susanna Camusso a commento sono arrivate, sono arrivate poco fa, dice così il segretario generale della CGL, ciò che davvero colpisce è l'atteggiamento di Fiat, che per l'ennesima volta ora di fronte ad una sentenza della magistratura, coglie l'occasione per rimettere in discussione gli investimenti. Lo dice appunto Susanna Camusso all'indomani della sentenza del Tribunale di Torino alla luce di un possibile congelamento del piano di investimenti del Lingotto. Adesso invece dal nord ci spostiamo al sud, andiamo a Napoli, andiamo a vedere qual è la situazione dell'emergenza rifiuti che di fatto non è mai cessata, ancora incendi e roghi nella notte, ma da domani qualcosa potrebbe cambiare. L'immondizia di Napoli andrà fuori regione e stavolta il decreto del governo non c'entra. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar del Lazio che impediva il trasferimento della spazzatura in altre regioni. I rifiuti vengono classificati come speciali non pericolosi, per cui vale il principio di libera circolazione a prescindere da accordi interregionali. Così già nei prossimi giorni la spazzatura potrebbe essere spedita verso quelle regioni disponibili prima che il Tar bloccasse tutto. Una buona notizia, in una domenica infuocata a Napoli, rifiuti ovunque, nel centro storico, ma soprattutto nelle periferie e a pochi metri dalle spiagge. Ecco Mergellina, due ore fa. Nelle strade della provincia giacciono circa 16.000 tonnellate di immondizia, denunciano i Verdi, a Napoli quasi 3.000. È preoccupato l'assessore all'igiene ambientale Sodano, non è detto che le regioni collaborino, dice. La Puglia, ad esempio, che ha accolto in passato quote dei rifiuti napoletani, a maggio ha presentato lei sola ricorso al Tar, che si è poi pronunciato a suo favore. L'ordinanza del Consiglio di Stato sarà pubblicata domani, nello stesso giorno in cui il Parlamento discute il tanto atteso decreto rifiuti, decreto che dovrebbe appunto dare il via libera ai rifiuti fuori regione e al quale si era fermamente opposta la Liga. Resta intanto in piedi il piano dei Magistris, trasferire i rifiuti all'estero e diventare autonomi con impianti di compostaggio e raccolta porta a porta. Tutto però ad emergenza risolta. Per ora i cumuli crescono, gli autocompattatori sono pieni e non riescono neanche a fare il secondo giro di raccolta. Gli impianti stili di Giuliano, Caivano e Tuffino sono quasi saturi. Il Comune domani annuncerà sorpresa all'apertura di un nuovo sito vicino alla zona portuale. Lì confluiranno i rifiuti prima di essere trasferiti sulle navi verso la Germania. Allora, intanto vi diamo la notizia di una smentita di fatto che arriva dall'Egitto perché il direttore dell'ospedale di Sharm el-Sheikh dove Mubarak si trova ricoverato ha smentito che l'ex presidente egiziano sia in coma. Era una notizia che era stata data dalla televisione di Stato nel tardo pomeriggio. L'avvocato di Mubarak, citato dalla stessa televisione, aveva detto poco prima che l'ex capo di Stato era entrato in coma a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Mubarak ha lasciato, lo ricordiamo, il potere lo scorso febbraio costretto dalla rivolta popolare ed ora è in attesa di essere processato. Però è arrivata appunto la smentita sull'aggravamento delle sue condizioni di salute. Tra poco parleremo anche dello scandalo che ha investito il gruppo Mardoc perché oggi ci sono altre novità, altre clamorose novità. È stata arrestata l'ex direttrice del giornale News of the World e anche ex amministratore delegato. Lo vedremo tra un attimo ma prima andiamo a vedere che cosa accade nel mondo dello sport e in particolare all'Argentina che è fuori dalla Coppa America. Giocatori tristi lasciano il campo come spesso accade in questi casi quando si perdono incontri importanti ma uno più di tutti aveva gli occhi puntati addosso il pallone d'oro Messi. È finita così l'avventura dell'Argentina nella Coppa America con i giocatori che sfilano a testa bassa con Messi l'ultimo della fila. Quasi non hanno il coraggio di alzarla la testa. Neanche questa volta è riuscito a cambiare il destino maledetto lui che ha vinto tre palloni d'oro consecutivi lui che con il pallone sembra poter tutto. Era il suo sogno l'aveva detto vincere la Coppa America in casa dimostrare una volta per tutte di poter trascinare l'Argentina di saperlo fare e invece anche questa volta è finita come le altre come i mondiali un anno fa quando in panchina c'era Maradona e lui in campo non segna nemmeno un gol. Questa volta è andata pure peggio perché dopo le prime due partite contro Bolivia e Colombia l'hanno persino contestato messo in discussione gli hanno detto che il nazionale non gioca bene perché ormai lui di argentino ha solo gli origini e come prova hanno portato il fatto che lui l'inno non lo canta poi le perle due assess geniali contro il Costa Rica illuminare una Coppa America spenta quasi a voler dire che il problema non era lui ma una squadra pensata a mare che il vero colpevole l'allenatore Battista che ha deciso di schierare il giocatore più forte del mondo a 40 metri dalla porta perché la verità è questa nel Barcellona Guardiola ha messo in condizioni messi di esprimere tutto il suo potenziale e ha sistemato al fianco due giocatori veloci Bojan e Viglia e dietro due artisti come Xavi e Iniesta nell'Argentina non è successo anche perché dietro ci sono Cambiasso e Mascherano due buoni giocatori non due artisti ma di questo negli almanacchi non rimarrà traccia rimarrà solo una casella che indicherà i pochi gol di Lionel Messi il più grande giocatore di sempre condannato a dimostrarlo ogni volta che giocherà con la maglia della sua nazionale Allora come vi dicevo siamo adesso allo scandalo delle intercettazioni che ha coinvolto sconvolto il gruppo di Rupert Murdoch che anche ieri ha comprato delle pagine di giornali per dire mi rammarico mi dispiace ho sbagliato ma evidentemente non è sufficiente perché oggi arrivano altre novità e sono grosse novità Associazione a delinquere pratica illegale di intercettazioni e corruzione di funzionari di polizia sono i capi d'accusa contestati a Rebecca Brooks per i quali l'ex regina dei tabloide britannici presentatasi spontaneamente oggi a mezzogiorno in commissariato a Londra è finita in manette con l'arresto della numero uno della divisione giornalistica dell'impero di Rupert Murdoch già direttrice del News All the World all'epoca dei fatti contestati il caso che sta terremotando il mondo politico mediatico del Regno Unito subisce una brusca svolta finora per le intercettazioni illegali di circa 4.000 persone VIP semplici cittadini spiati dal News All the World a caccia di scoop sono finite in prigione figure di secondo piano prima le dimissioni di Rebecca e ieri le pubbliche scuse a mezzo stampa del tycoon australiano puntavano a riassorbire gli effetti dello scandalo ma la valanga adesso rischia di diventare inarrestabile su fronti diversi James Mordock erede designato dell'impero di famiglia sarebbe indagato per avere tentato di distruggere le prove di come le intercettazioni fossero una pratica in uso da anni tra le testate del gruppo a fine mese il consiglio di amministrazione della tv satellitare Biscay B che i Mordock volevano scalare si riunirà e probabilmente sarà congelata la nomina di James a presidente dell'azienda poi c'è il versante istituzionale altrettanto spinoso tanto che per molti l'arresto di Rebecca Brooks sarebbe una manovra di Scotland Yard per distrarre l'opinione pubblica dal coinvolgimento diretto della polizia oggi il Times racconta delle vacanze premio regalate dalla direzione del News All The World al capo di Scotland Yard Paul Stephenson e il governo del premier Cameron coinvolto anche lui per aver pagato in passato come consulente un giornalista del settimanale chiuso una settimana fa è fortemente preoccupato dagli sviluppi del caso infine l'incubo dell'inchiesta americana tra i VIP che minacciano causa o i giornali di Murdoch da David Beckham a Paul McCartney c'è anche l'attore inglese Jude Law che denuncia di essere stato spiato ma negli Stati Uniti un elemento concreto per l'indagine già avviata dall'FBI sulle intercettazioni effettuate ai familiari delle vittime dell'11 settembre un versante da seguire con attenzione visto che Rupert Murdoch è il proprietario di Fox News la tv politicamente più influente nella corsa alla Casa Bianca grande sostenitrice all'epoca delle due presidenze Bush e adesso ci fermiamo per la pubblicità eccoci non ci sono altre notizie per questa sera noi ci salutiamo qui vi auguro una buona serata arrivederci